Maestro Armiliato, un grande galà per ricordare una grandissima soprano e il ricavato andrà alla fondazione Daniela Desi e al Gaslini. Come siete arrivati a pensare all'ospedale dei bambini? Innanzitutto per il grande impegno che il Gaslini ha sempre verso la ricerca, la cura e anche la tutela dei bambini. Sul territorio genovese è una realtà straordinaria, poi io sono anche parte della Nazionale Cantanti che è stata appena fatta la partita del cuore. E' che questo ponte di solidarietà tra il 30 maggio e il 30 giugno fa capire quanto Genova sia vicino a queste realtà. Quindi la musica a favore della salute e della prevenzione in questo caso? Sì, la prevenzione è intesa proprio come prevenzione al malessere anche. Prevenzione al malessere attraverso un miglioramento della qualità della vita e la cultura, l'arte, la musica, lo sport aiutano sicuramente a vivere meglio e a prevenire almeno in parte le malattie che sono quasi sempre causate da uno stato di depressione o di malessere diffuso. E questo è il messaggio che secondo me la fondazione che porta a nome di Daniela porta avanti come una bandiera importantissima. Presidente Pongiglione, dopo il successo dei concerti per il Gaslini, di Salvatore Accardo e lo spettacolo di Ugo Di Ghero, il Carlo Felice nuovamente apre le porte per uno spettacolo a favore del Gaslini. Il Carlo Felice, grande eccellenza genovese, grande amico del Gaslini, non perde occasione per esserci vicino. Il Carlo Felice non perde un'occasione grandi artisti genovesi e anche in questo caso in memoria della grande cantante Desi. Credo che sia veramente un'ulteriore prova, anche e soprattutto in quest'anno quando abbiamo compiuto gli 80 anni, una prova di vicinanza con oltre che dei contributi in denaro che sono sempre utili, ma anche con l'arte che è un sistema per aiutare i bambini e anche gli adulti, ma comunque anche i bambini a vivere un po' meglio, a superare dei momenti di difficoltà. Quindi credo che sia veramente un tributo che accettiamo con grande favore e per il quale ringraziamo veramente di cuore. Ed è un elemento in più della città che si fa vicino al Gaslini, il Gaslini che si fa vicino alla città per un sistema che lavori per il bene comune.